Salve gente e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai The Ringer e alla missione di Alexander, il vaso guerriero. Incontreremo per la prima volta il personaggio nel punto che vi sto mostrando in questo momento sulla mappa. Lui sarà incastrato nel terreno e per portargli permettere di uscire fuori dovremo colpirlo con degli attacchi caricati. Una volta estratto ci ringrazierà per l'aiuto. Se volete potete già ucciderlo adesso e ottenere così da lui un talismano non altrimenti ottenibile. Tuttavia se completerete per l'intera sua missione otterrete anche altri premi e infine anche un talismano che è la versione potenziata di quello che otterreste uccidendolo qui. Il secondo incontro che avremo con questo personaggio lo avremo una volta che avrete completato le gallerie di Gael. Si tratta tuttavia di un dialogo del tutto opzionale. Il vero step successivo con questo personaggio lo avremo una volta raggiunto il castello di Mantorosso. Qui potremo interloquire con lui una volta che staremo attivando il festival di Radan. Quello che dobbiamo fare quindi è combattere contro Radan, battaglia nella quale lui potrà darci una mano. Una volta sconfitto Radan lo troverete proprio nei pressi della grazia attivabile non appena sconfitto Radan, che ero vista per Terra in cerco di resti umani da poter incorporare. Esaurite quindi i dialoghi con lui, la prossima interazione che avremo con questi sarà a Liurnia, poco più assurdo della sala studio cariana. Stavolta sarà nuovamente incastrato nel terreno come è successo la prima volta che l'abbiamo incontrato, tuttavia stavolta per poterlo fare uscire fuori dovremo anche prima di colpirlo cospargerlo con dell'olio. Ti serviranno quindi dei vasi ricolmi d'olio per potergli ottenere e poi acquistare la ricetta dal mercante che si trova all'interno del fiume Siofra. Una volta fatto questo potrai liberarlo e tramite la conversazione che avrai con lui banalmente otterrai un indizio sul fatto che poco più a est della vostra posizione si trova il suo villaggio natale, appunto il villaggio di Vansburgo. Per adesso è qualcosa che non ci interessa, servirà poi per completare la missione del vaso bambino, ma è roba di un altro video. Questo incontro comunque è anche esso opzionale, se vuoi skipparlo ti basta incontrarlo direttamente sul monte. Gelmir. Qui lo troverai nel lago di lava che si trova poco più a sud ovest del forte di Laid e dopo aver sconfitto la salamandra che dimora nel suddetto lago potrai interloquire con lui, mentre si trova lì intento a rafforzare i propri cocci. L'ultimo incontro con questo personaggio sarà a Farumazula, partendo dal punto di grazia montacarichi del Tempio del Drago proseguite naturalmente lungo il percorso e lo troverete pronto ad affrontarvi, quindi dialogate con lui finito il dialogo inizierà il combattimento. Anche se doveste perdere tranquilli potrete sempre ritornare lì per potervi combattere nuovamente una volta sconfitto ottenete da lui un amuleto che potenzia di molto l'attacco delle vostre weapon art e un oggetto che serve per completare un'altra missione, qual è il vaso bambino. Ed è in questo modo che si conclude la quest di Alexandre il vaso guerriero Io vi ringrazio per la visione e alla prossima!